Grazie Presidente, ci tenevo a chiarire alcuni concetti sentendo anche gli interventi dei colleghi di opposizione che per carità rispetto, come sapete, come sanno tutti, anche chi conosce le cronache recenti, sono una persona che se è del caso anche molto critica verso la maggioranza che comunque continua a rappresentare, però sto trovando gli interventi dei colleghi di opposizione un pochino fuori luogo. Cerchiamo secondo me di rimettere la chiesa al centro del villaggio, come si suol dire, intanto il testo unico degli enti locali che è un po' la nostra costituzione o comunque la nostra linea guida non fa distinzione tra consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione, quindi questo discorso la maggioranza è tenuta, l'opposizione no, soprattutto quando si tratta di debiti fuori bilancio e in molti casi di vicende anche molto al di là ma nel passato che magari hanno toccato anche altre amministrazioni prima di queste la trovo sinceramente una riflessione un pochino e una presa di posizione un pochino fuori luogo, ovviamente la rispetto ma mi sento anche io in diritto, in dovere di chiarire i punti di chi già adesso, una zona di oggi, da più di qualche minuto e in generale da quattro anni e mezzo continuo a votare milioni e milioni, decine e decine di milioni di euro di debiti fuori bilancio, anche perché io ho un pochino esperienza di qualche altra consigliatura, a importare quella passata e io in due anni e mezzo della passata consigliatura forse avrò visto dieci debiti fuori bilancio in due anni e mezzo noi sono quattro anni e mezzo che per carità mille difetti, mille difficoltà, mille errori però sistematicamente a votare debiti fuori bilancio, ad assumerci responsabilità anche di gestioni passate e di accollarci la responsabilità di questo, sanare degli errori del passato senza devo dire neanche fare troppe storie quindi io chiederai ai colleghi di opposizione di portare un pochino di rispetto nei confronti di chi sta a votare meno intelligenti, meno svegli o meno furbi degli altri semplicemente ci stiamo prendendo delle responsabilità anche di chi governava prima ripeto, trovo tra l'altro fuori luogo anche questo chiarire, se la maggioranza non vota crea delle difficoltà alla città però noi che siamo opposizione comunque non votiamo, quindi è un discorso fuori luogo non strascritto da nessuna parte, non esiste una distinzione tra il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di opposizione esiste il consigliere comunale e dei cittadini di Roma capitale e che chiaramente se vota o non vota si prende le responsabilità a prescindere dal gruppo politico e dal gruppo consigliere di appartenenza quindi Presidente mi scuso se approfitto della discussione però onestamente ho sentito, ripeto, con interesse poi molti colleghi assolutamente lo sanno, li rispetto e talvolta ci troviamo anche a condividere delle idee però su questo tema onestamente trovo la loro polemica veramente fuori luogo e poco rispettosa di chi, ripeto, in quattro anni e mezzo ha votato qualche decina di milioni di euro di più grazie